Domenica 23 giugno si è formato il nuovo consiglio direttivo dell'ente carnevalesca e nella giornata di ieri si è svolta la nuova giunta. Un momento serio ed intenso dove durante la serata che si è svolta a Villa Piccinetti sono stati definiti i ruoli dei vari consiglieri. Come era presumibile, alla presidenza dell'ente è stata confermata Maria Florea Gianmarioli che verrà affiancata dal nuovo vicepresidente Luca Cardarelli e dal direttore organizzativo Daniele Carboni. Il ruolo di tesoriere è stato affidato a Massimiliano Negro mentre il segretario sarà Maurizio Misuriello. Il carnevale è una cosa seria, ha dichiarato la presidente Maria Florea Gianmarioli. Ovviamente alcuni consiglieri del vecchio consiglio hanno fatto per loro scelta un passo indietro ma ci sarà questo gruppo chiamato gli amici della carnevalesca ufficializzato dal vecchio consiglio, proprio votato dal vecchio consiglio dove chi vorrà potrà dare una mano a noi e al carnevale e quindi anche i vecchi consiglieri che hanno deciso di non stare proprio nel consiglio ufficialmente parteciperanno e quindi insomma in una sorta di passaggio di testimone. Ieri sera abbiamo passato questa serata molto piacevole in compagnia e abbiamo in qualche modo condiviso delle idee e siamo pronti per ripartire poi tutti insieme fondamentalmente. Ogni consigliere avrà il proprio compito che dovrà portare a termine per garantire la buona riuscita del carnevale di Fano quindi per fare questo ogni dieci giorni circa ci sarà una riunione per fare il punto della situazione. Adesso giovedì prossimo ci vedremo per ufficializzare il nuovo manifesto e il tema del carnevale 2020 dopodiché intorno alla metà di luglio lo presenteremo ufficialmente alla città e quindi questi qui saranno subito i primi passi poi tengo, spero di riuscire a farlo prima delle vacanze di agosto dare il via ai nuovi carri quindi fare il bilancio di previsione e dare il via ai nuovi carri così che agosto ci prendiamo un po' di vacanza e poi per settembre riprendere a lavorare a sprombattuto.